Allora, vediamo gli esempi del participio futuro. La prima frase, consul, pre-erat, un composto di sum da pre-sum, come po-sum, e che vuol dire erano davanti. Vedete, erat vi dice che è l'imperfetto, la parte finale, perché è l'imperfetto del verbo essere, quindi il consul era a capo, era davanti ai soldati, questo verbo reggettativo, lo trovate sul vocabolario, a militibus è legato oppugnaturis, che stavano per assalire, oppugno regge il complemento oggetto, quindi oppido, ma il complemento oggetto di oppugno, oppugno che stavano per assalire la città. Vedete che per rendere il futuro qui devono, noi dobbiamo in italiano mettere un'espressione, diciamo, che vuol dire stare per, o avere intenzioni di, eccetera. Secondo esempio, frase celeberrima, è la frase con cui i gladiatori salutavano l'imperatore prima di combattere dentro le arene, quindi anche dentro il colosseo, e si traduce ave, salve, cesare, coloro che stanno per morire, morituri, cioè il participio viene sostantivato, salutant, salutano te. Terzo esempio, il participio con funzione verbale, i galli, avendo l'intenzione di fare una guerra, di suscitare una guerra, offrono, chiaramente in voto, il bottino futuro, predam, la preda futura, la preda che sta per venire, anche futura, ma chiaramente un participio futuro, numibus, quindi agli dei, ai numi, quindi offrono agli dei, dativo, il bottino, predam, futuram, futuro. Ora, non vi sembrerà così difficile, ma il participio presente, passato, perfetto, o futuro, ci introduce a una questione di cui abbiamo già in parte trattato con l'indicativo, anche qui adesso cominciamo a prendere in modo un pochino più serio, che è la questione della conseguuzio tempum, cioè del fatto di come si seguono, di come sono, in che rapporto sono i tempi fra di loro, all'interno delle, tra la frase principale e le frasi subordinate. Allora, in latino come in italiano, questa questione, il rapporto tra i tempi, è molto importante. Ora, una subordinata può essere anteriore, cioè avvenuta prima, contemporanea, cioè una subordinata avvenuta contemporaneamente alla principale, o posteriore, cioè verrà dopo rispetto alla principale. La conseguuzio tempum regola i tempi verbali che sono necessari per rendere questi rapporti secondo del modo verbale, che vuol dire, cioè che a seconda che noi abbiamo un indicativo o un congiuntivo, per esempio, la conseguuzio implica tempi all'interno di questi modi differenti, in latino e in italiano, come vedremo, e si comportano in modo differente, ma la cosa non vi deve sorprendere perché il latino si comporta come l'italiano, quindi semplicemente voi dovete riprodurre quello che è in italiano. La conseguuzio tempum varia a seconda, che è la principale, questo è importante in realtà, sia al presente o al passato, cioè esiste una conseguuzio al presente e al passato. Adesso vedremo qualche esempio. Ora faccio un piccolissimo esempio di qualcosa che non abbiamo ancora fatto, ma che è molto chiaro per l'italiano, e cioè la conseguuzio di fatto al congiuntivo, perché non è una cosa talmente, cioè non è un salto in avanti così ampio, perché se voi girate il libro, le pagine del vostro libro, vedete che il congiuntivo è immediatamente successivo all'argomento che stiamo trattando adesso. Ora, vediamo un po' se voi riconoscete questi rapporti temporali. Se io dico, penso che tu sia stato buono, in italiano significa che l'essere stato buono è precedente al momento in cui penso. Se io invece dico, penso che tu sia buono, io penso che tu sia buono adesso, cioè penso e contemporaneamente tu sei buono. Se io dico, penso che tu sarai buono, vuol dire che io penso adesso una cosa che farai dopo, magari adesso sei cattivo. Al passato invece, noi vedete, pensavo, ho messo, pensavo che tu fossi stato buono, si usa il congiuntivo più che perfetto di fatto, perché è avvenuta prima, pensavo che tu fossi buono adesso, quindi le due adesso, nel momento in cui lo pensavo, cioè tra l'azione di pensare, pensavo e tu fossi buono, c'è contemporaneità, e pensavo che tu saresti stato buono, ora questa è una caratteristica particolare di italiano, noi in italiano non possiamo fare il futuro con un futuro, chiaramente, rispetto al passato, e quindi usiamo il condizionale passato. Attenzione, perché questa cosa voi la sbagliate sempre, pensavo che tu saresti stato buono, mi auguravo che avresti fatto i compiti, ok? Detto quello che abbiamo detto per il congiuntivo, che è una cosa che voglio solo che notiate, ma non che per ora lo studiate, dovete solo capire, invece nel participio qui è una cosa che dovete proprio comprendere bene. Allora, se nel congiuntivo e anche nell'indicativo c'è differenza, se la frase principale è al presente o al passato, il participio non ha interesse rispetto al tempo, cioè o è un'azione, o è anteriore, o è contemporanea, e non usa due forme del participio differenti a seconda che il verbo della principale sia presente o sia passato. Facciamo qualche esempio. Mangiate un panino, sono sazio. Significa che ora sono sazio perché prima ho mangiato un panino. Mangiante un panino, sono sazio. Ora, questa espressione chiaramente non si usa, ma è sarebbe corretta in italiano. Noi sostituiamo mangiante con mangiando. Mangiando un panino adesso, mentre io mangio un panino, sono sazio. Se voi lo guardate al passato, è mangiato un panino esattamente uguale che al presente, è rosazio, semplicemente cambia il tempo della principale, mangiante o mangiando un panino è rosazio. Qui avete perfetta contemporaneità. Ora, come vedete, l'unica differenza quando avete il participio è il tempo della principale. Il participio non cambia assolutamente. C'è una cosa che vi voglio far notare. Mangiato un panino, dal punto di vista grammaticale, il soggetto di mangiato è panino grammaticale. Mentre nel caso del participio presente, mangiante o un panino, il soggetto di mangiante o di mangiando sono io. Quindi panino in questo caso è complemento oggetto. Questo perché il participio presente è sempre attivo e quindi può avere il complemento oggetto, non può non avere il complemento oggetto, ma insomma è attivo. Il participio passato è generalmente passivo e quindi se fate un'espressione come le prime due frasi, quella del presente del passato, come vi rendete conto, mangiato un panino diventa complemento oggetto. Occhio perché ve lo chiedo all'interrogazione. Ora voi vi chiederete, come faccio a tradurre il participio? Ora mi trovo la frase in latino, ok, me l'ha tradotto il prof, ma io come faccio a tradurlo? Allora, la prima cosa che dovete capire quando trovate un participio è se il participio è a funzione di nome e di aggettivo, più o meno la stessa cosa, o di verbo, cioè di verbo, a funzione verbale, quindi implica una subordinata che non sia relativa, ok? Causale, temporale, e tutte quelle che faremo da qui in poi. Cosa dovete fare operativamente? Dovete provare a tradurlo o col gerundio, e se riuscite a tradurlo col gerundio, cioè se vi suona col gerundio vuol dire che è una funzione verbale, o con una funzione relativa, quindi funzione di aggettivo o di sostantivo. In funzione verbale, cioè quando fa parte una subordinata, generalmente è fra virgole, generalmente vuol dire che la persona che vi ha messo la versione sotto gli occhi, generalmente ve l'ha messa tra virgole, perché sapete che i latini non usavano la virgola, però per stimola spesso si mette tra virgola, spesso. Fate attenzione, il participio presente è attivo, quello perfetto è spesso passivo, come dicevo prima, quindi occhio a chiedervi sempre chi è il soggetto della frase, ok? Le prossime due slide sono in parte pensate per l'esercizio che voglio poi darvi riguardo a questo argomento. Che significa che la funzione aggettivale corrisponde a una relativa? Significa che voi potete operativamente sostituire il participio presente con una proposizione relativa. Magister premia discipulis merentibus dedit, che è la frase che trovate alla slide 11, può essere tranquillamente trasformata con quella che segue sopra, cioè magister premia discipulis dedit, ai discepoli, cioè il maestro diede i premi ai discepoli, i quali meritano. Che cosa? Ovviamente i premi li merita, i quali li meritano. Questo qui è soggetto del verbo, come discipulis è soggetto nei fatti del participio presente, cioè dal punto di vista sintattico, interna una frase, discipulis è il complemento di termini di dedit. Ma rispetto a merentibus ne è il soggetto, quindi se voi fate poi la relativa chiaramente dovete mettere qui, ok? E questa è la cosa un po' più difficile. Vediamo quella dopo. I nemici, vedete, hostes, quindi vediamo un attimo la frase, Cesare spinse in vincoli i nemici catturati in battaglia. Voi potete trasformarla anche in una frase, Cesare spinse in vincoli, mise in ceppi i nemici complemento oggetto della frase principale, i quali sono stati catturati o furono catturati in battaglia. Di nuovo qui, come vedete, qui è soggetto della relativa, della relativa, è un pronome relativo, nominativo, plurale, riferito ad hostes, e qui è nominativo perché chiaramente hostes è il soggetto della frase, della frase relativa, è il complemento oggetto di coniesit, ma qui è il soggetto di sunt capti, e quindi, come vedete, captos, lo vedete che è accordato ad hostes, accordato nel senso che è nello stesso caso, e quindi hostes ne è il soggetto. Vediamo il participio invece in funzione verbale, sempre presi gli esempi dalla slide 11 alla slide 12, il consule, il consul cecidit, cadde, combattendo valorosamente, avverbio, strenue. Noi possiamo volgerlo, cambiare questa frase, modificarla con una temporale esplicita, non implicita col participio, ma esplicita con il verbo finito all'indicativo. E in questo caso sarebbe il console cadde, mentre doom combatteva strenuamente. Non sorprendetevi che io abbia tradotto pugnat con combatteva, perché vi ricordate che doom, quando ha funzione di congiunzione temporale, richiede sempre il participio presente, a prescindere del fatto che ci sia un passato, un presente nella principale. Notate che consul è soggetto di pugnat, come consul è soggetto di pugnans, nel senso che consul e pugnans sono uno accordati all'altro, cioè hanno lo stesso caso. Nella secondo esempio voi avete i prigionieri furono condotti sul continente, consegnati dai britanni, vi ricordate, dati dai britanni, britanni è complemento ad agente, voi potete modificare questa frase scrivendo i prigionieri furono condotti sul continente dopo che erano stati dati dai britanni. A questo punto voi avete una temporale che implica anteriorità e quindi potete mettere dopo che. in alcuni casi potrebbe esserci anche una causale poiché erano stati dati, quindi poteva esserci anche il posto di Postquan e QIA per esempio, QIA ha britanni, stati, eranti, eccetera, eccetera. Ora, a parte tutto questo, che vi sembra molto difficile, adesso fate qualche esempio, vedremo un attimo, dopo magari qualche Google Modul, eccetera, eccetera, vediamo un po' se avete capito il concetto. Ok, abbiamo finito. Alla prossima.